dai la è uccid... no cazzo è rimasto solo è rimasto solo potevo ammazzarlo e ora che cosa fai fottuto sei fottuto ormai eh vabbè dai ci possiamo riprendere i got nightmares in my head i fear that the thoughts build up until i can't hear that my mind fills up into a creature and it haunts me somewhere much deeper anxiety filling up every space no privacy and silently it could build and build until you finally see whoa it's taking over damn no closure moving closer no exposure i just wanna be a loner some can't stay sober looking over all their shoulders like moving boulders just to get out of the home it sucks i've had enough i don't want to feel the stuck under the rug all my problems that are shut ancora c'è speranza di vitt... di... c'è speranza di vittoria raga allora son qua sopra son eccolo eccolo ha fatto la stessa cosa che ha fatto con me quel figlio di puttana vai via vai via ok uno è morto è morto siamo pari adesso 2 a 2 cazzo ti metti l'hovertrape se stai per morire porca puttana raga porca puttana vabbè dominio di nuovo porca trova i sembrano gli stessi esco c'è linda ma sono l'unico con l'hovertrape vabbè cazzo è la porca puttana ok già aver distrutto la torretta non è una cosa per niente male poi se voi la dentro non giantate siete proprio dei coglioni di merda cioè scusate porca troia che cazzo è la no raga incredibile qua assurda quella è la torretta overdrive e non capisco perché sto gioco di merda fa fare queste cose qua ti mette contro squadre impossibili ti mette contro squadre impossibili non puoi fare niente così è inutile è inutile c'è non no porca puttana non ci hanno manca il tempo di pensare qua se vabbè 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 vai vai vaffanculo va dominio di nuovo di nuovo di nuovo è un ingubo è un ingubo ah questa mappa magari forse riusciamo a fare qualcosa già la vedo brutta cazzo ma pure quello che cazzo fa la porca troia raga porca troia eh questa partita mi sa che loro dai uccidili uccidili che eh non li farò vicinare mai poi mai qua dentro finchè c'è gelindo non c'è passaggio forco devonio certo che è proprio un coglione quel barrel eh via abbiamo vinto 100 monete 100 monete vabbè putt brawl mi prendo gelindo porca troia già cominciamo così non mi piace per niente ci ha distrutto già mezza cosa lì ok 1 a 0 è successo la fine del mondo vaffanculo vai 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 e che cazzo li tira tosso ma dai ma dai ma dai ma come cazzo si fa così che cazzo come fa a sparare così veloce cioè come cazzo fa a picciare così veloce sul pavimento quello io non me ne capacito veramente ma queste cose sono assurde e porca troia se vabbè se ne viene da noi praticamente li aiuta li aiuta praticamente a segnare è così però sei un cazzo di coglione però così è io metto overdrive quello che vuole succedere succeda abbiamo vinto rapino rapino ora qui c'è da bestemmiare forte eh prenditi shelly dai roba e cazzo dai gioco gioco allora sono tutti la i primi danni sono arrivati per tutti ne ho schivati abbastanza anche 96 59 è già un bel risultato eh porca troia raga porca troia dai 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 cazzo 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 no 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 dai non è possibile cazzo 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 caz fanno cagare a raffagemme a raffagemme imprendi fratelli metto qua bel tranquillo qua e distruggo un po tutti vabbè alla fine se non sanno giocare è anche facile dai ma questo qua dentro è e cazzo un botto di danni li ho fatto porca troia raga porca troia vai ad aiutarlo vai ad aiutarlo benissimo sono morto raga e cazzo 8 4 c'è 9 4 dai la fine giù ok ok abbiamo vinto abbiamo vinto meritato argento 2 ovviamente grazie 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 grazie